uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi patch 8.20 arrivata e mamma mia che patch che stiamo per scaricare e giocare nei prossimi giorni alle mie spalle ragazzi lo vedete l'avete già visto la schermata che va ad annunciare la nuova modalità the floor is lava il pavimento è lava in questa modalità dopo un paio di minuti inizierà a derruttare la lava dal vulcano e a salire progressivamente nella mappa quindi dovremo ovviamente non toccarla per evitare di subire danno e continuare a buildare per essere gli ultimi giocatori rimasti nella lobby mi raccomando ragazzi ci sono dei piccoli accorgimenti per questa modalità non preoccupatevi perché ogni secondo vi viene assegnato un piccolo quantitativo di materiale e ovviamente potrete costruire sulla lava senza ovviamente subire danno alle vostre strutture ma andiamo avanti ci sono modifiche importantissime anche per la girosfera sia in questa patch che nella successiva quella di settimana prossima da adesso la girosfera non infligge più danno ai giocatori in caso di collisione quindi non potremo più chillare nessuno con la girosfera e l'effetto però dire spinta o di rimbalzo invece rimane immutato abbiamo però delle modifiche che arriveranno nella prossima patch e ve la voglio dire ragazzi dalla prossima dal prossimo update si potrà sparare quando si è nella girosfera diventerà assurda troppo troppo oppi anche se hanno un sacco di commenti contro la girosfera quelli di epic games hanno deciso di non modificarla di non nerfarla ma di aumentarne addirittura le potenzialità staremo ovviamente a vedere un'altra novità ce l'abbiamo proprio qua alle spalle ragazzi la nuova trappola velenifera ed è molto molto interessante perché innanzitutto è una trappola che sarà di rarità non comune quindi in poche parole verde si chiama con precisione trappola a dardo velenoso la potremo posizionare sui muri sui pavimenti e sui soffitti e si potrà trovare esclusivamente nel bottino a terra funziona fino a tre unità di distanza quindi dardi colpiscono fino a tre unità di distanza e questi proiettili velenosi hanno dei danni nel tempo alla salute del giocatore che viene colpito super interessante perché dieci danni alla salute ogni incremento e sono otto incrementi per sette secondi vuol dire che se un giocatore passa sulla trappola si prende 80 di danno e la figata è che il danno trapassa lo scudo quindi direttamente alla salute del personaggio ovviamente attenzione se il giocatore viene colpito più di una volta dai dardi veleniferi in poche parole il timer si azzera cioè riparte da otto secondi ma ovviamente non c'è un moltiplicatore dei danni al giocatore stesso quindi se viene preso che gli mancano tre secondi torna a otto secondi e subisce altri 80 danni ma un'altra grandissima novità sono gli oggetti consumabili ragazzi le banane e aschere le banane di noci di cocco e i peperoni allora ragazzi le banane ci danno subito 5 di salute e li troviamo ovviamente nel bioma tropicale nella giungla il cocco raccogliendo il cocco otterremo 5 punti di salute ma se abbiamo già la salute al massimo ci danno lo shield e per ottenere il cocco dovremmo danneggiare gli alberi di palma presenti nel bioma tropicale ma troveremo anche il cocco nel deserto e per finire ragazzi ne avevamo già parlato un bel po di tempo fa il peperone ragazzi quando mangiamo il peperone ci danno subito 5 punti salute ma attenzione viene aumentata la velocità di movimento del 20 per cento per 10 secondi lo si può trovare solo nel deserto incredibile ne avevamo parlato davvero mesi fa ed è realtà solamente adesso ragazzi modifiche anche per quello che riguarda il tesoro sepolto a volte viene sponato in punti dove non si può arrivare modificata questa cosa e hanno anche finalmente modificato il cannone pirata da adesso quando riusciamo a entrare in un cannone a farci sparare e a spararci la direzione molto più controllabile quindi non è che si va a caso hanno modificato anzi ridotto la respinta del cannone quando lo utilizziamo mentre lo stiamo guidando quindi quando spariamo mentre lo stiamo guidando non veniamo più rispediti indietro con tanta potenza un sacco di bug corretti anche in questa pace ma davvero ragazzi bug grafici bug proprio di gameplay modifiche piccole o grandi che andrete a notare sono davvero infinite ragazzi quindi voglio andare avanti e parlarvi del nuovo evento ragazzi dove c'è la nuova modalità di gioco arena che è fatta per giocatori a coppie o in singolo questa modalità di gioco ci permetterà di accumulare dei punti che a loro volta ci faranno sbloccare la nuova sessione di qualificazioni per la fortnite world cup ogni lega si divide in tre sotto leghe quella lega aperta lega contendenti lega campioni ogni volta che partecipiamo a un match della lega consumeremo un biglietto dell'autobus quindi ci verranno scalati un tot di punti in base alla lega in cui stiamo competendo ovviamente il numero adesso non ci è stato detto quante persone passeranno ma i giocatori con i punteggi più alti accederanno alle qualificazioni delle dieci settimane che partiranno ad aprile per la fortnite world cup quindi ragazzi consiglio a tutti di buttarsi dentro nell'arena e fare un bel po di match ma c'è anche un nuovo torneo il 30 il 31 marzo la coppa lusso dove si giocherà esclusivamente a coppie torneo con montepremi di 100 mila dollari tanta tanta roba ragazzi questo montepremi verrà suddiviso tra tutte le regioni quindi l'europa al nord est america oceania e abbiamo due giorni appunto di gioco il 30 marzo dove ci verranno detti i giocatori qualificati che andranno a giocare il 31 marzo e saranno i 3000 migliori giocatori quindi ragazzi perché non provare a giocarci modificate un sacco anche le prestazioni quindi meno lag alleggerito tutto il gameplay generale grandi modifiche anche sui sistemi ios quindi non si perderanno più frame cosa che succedeva spesso e volentieri più velocità anche nei dispositivi mobili e modifiche anche alla grafica e all'animazione nuovi effetti aggiunti luminosità migliorata contrasto dei colori migliorate migliorato modifiche all'audio anche ragazzi hanno evitato di avere dei suoni troppo alti abbassando e bilanciando tutti i suoni più o meno delle armi modifica l'interfaccia utente ragazzi potremo fare un sacco di cose nuove più o meno piccole che non vi sto neanche a dire e ovviamente tante modifiche anche nella modalità creativa nella modalità creativa verrà inserito il poligono di tiro dove dovremo allineare i bersagli e affinare le nostre capacità con questa nuova modalità creativa aggiunte le isole nuove per la modalità un sacco ma lo sto neanche dire veramente ragazzi centinaia di migliorie anche per la creativa che si dimostra essere una modalità molto apprezzata dai creatori di epic games e davvero io vi invito eventualmente ad andare nella pagina ufficiale del sito se volete leggervi tutte le modifiche su save the world arriva il nuovo la nuova serie di incarichi i pirati hanno invaso la casa base scegli una benda e preparati a un'avventura tra smargiassate saccheggi e torture nuova tempesta beta il rifornimento raccogli la lista di oggetti e riempi il tuo zaino prima che la tempesta si avvicini e anche qua valanghe di modifiche beh ragazzi la patch 8.20 è arrivata mi raccomando lasciate un bel like se vi è piaciuto il video vi chiedo scusa quello di prima che avevo caricato era senza audio noi ci vediamo alle 13 live ciao